In particolare abbiamo visto una buona prestazione da parte di Drolé, non so adesso lei come partita. Allora, parto dall'ultima, così mi è più facile, di Drolé. Allora, non mettiamo pressione a questo ragazzo, a molte aspettative, un ragazzo che per la prima volta si affaccia al calcio professionistico. Ha fatto una discreta prima mezz'ora, poi nell'eccitazione della partita si è fatto attrarre dalle luci della ribalta di andare a cercare di fare gol, quando invece qualche volta poteva passare la palla. Giocatore interessante, dove dobbiamo lavorarci. Dopo 30 minuti, secondo me, aveva finito la benzina. Quindi secondo me è un giocatore che ha patito anche il fatto per la prima volta di indossare la casacca ufficialmente del Perugia. E quindi, piano piano, sono ragazzi giovani che non bisogna, gli ho detto, caricarli di grandi aspettative, saperli aspettare, saperli coccolare nel momento che sbagliano, saperli bastonare nel momento che si fanno apprendere dall'eccitazione della partita o dalle situazioni che intorno gli circonda. E quindi bisogna essere bravi. Sulla prestazione della squadra, sapevo che eravamo contati, eravamo molti giocatori della primavera, abbiamo preparato la partita, questo nuovo modulo, in due giorni. Sulla fase difensiva, tranne due sbavature del primo tempo, sono stati bravi. Abbiamo un po' peccato di cinismo sotto porta, perché quattro occasioni nel primo tempo, almeno una bisognava fare gol. Perché non sempre poi ti capita altre occasioni per fare. Lì siamo mancati. E poi un pochettino, un po' più di cattivere sulla seconda palla mancava, ma tutto sommato ed era normale. Noi venivamo in una partita importante come il Milan, giocata discretamente, la fatica, il ritorno. Le motivazioni per loro erano, secondo me, molto più importanti, perché vuoi per quello che gli sta succedendo. Però i miei sono stati bravi, perché quando una squadra vuole ottenere risultato, a questa mentalità si può fare dalla strada. E quando non vuoi ottenere qualcosa, è difficile inculcare le mentalità del giocatore. Si sta togliendo il Milan. Per l'ennesima volta non si prende gol. Però bisogna dire che questa sera rimane dai singoli. La citazione la merita anche il portiere. Si, si, sicuro. Ho detto nelle due sbavature, si riferiva proprio a queste due grandi parate che ha fatto il primo tempo. È un portiere dove ha già fatto un campionato importante. Quindi sapevamo delle... Lì è stato bravo il direttore. Io lo conoscevo poco. Lì è stato bravo il direttore a prenderlo. E quindi l'accitazione è stata giusta. Nel senso che il portiere oggi ci ha dato una grande mano. Mi riferisco al Milan. Secondo me il Milan abbiamo fatto una grande secondo tempo, secondo me, sul fiano difensivo. No, no, di gol. Noi abbiamo preso due gol col Milan per eccesso di confidenza. Abbiamo preso due gol in contropiede. Non è una logica che il Perugia prenda due gol a contropiede a Milano. Però è un eccesso di confidenza. Mi piace anche questa cosa qua. E vuoi anche per chi delle giocate, che io nel secondo gol era un po' che non le vedevo, giocare di prima come ha fatto il Milan. Se non c'era il Milan, secondo me il gol non lo prendevamo. Il secondo. Quindi siamo sulla buona strada. Dobbiamo migliorare, secondo me, nel fraseggio da dietro. Questo sì, un pochettino. Per caratteristiche questa squadra gioca forse meglio quando gioca con i quattro difensori che con i tre. Vuoi anche perché i tre l'abbiamo provato poco. Ma proprio per caratteristiche. Cosa manca? La velocità? Manca nella velocità e nel possesso palla. Manca i giocatori che portano palla. Sono tutti tre simili. Sia Volta, che Commotto, che Rossi. Sono tutti tre giocatori che non vanno alla ricerca di creare la superiorità numerica con la palla. Lo fanno col passaggio. E quindi molte volte non la crei. Perché poi vanno subito a aggredirti. Con la difesa quattro. Vuoi perché ci abbiamo giocato di più. E vuoi per caratteristiche anche dei singoli. Secondo me anche la squadra quando si è andato a quattro ha fatto qualcosa di meglio. E sulle assenze, quali sono le condizioni degli assenti? Se Belmonte e Parigini rientrano in gruppo dalla settimana prossima. E come sta la squadra di percentuale, visto che si avvicina all'inizio del campionato? Mancano ancora due settimane che sono ancora tante. Allora, su quelli che oggi non hanno giocato, se era una partita avrebbero giocato forse tutti. Cioè tutti. Tolto Belmonte e Parigini, che arrivo dopo a dire questo. Gli altri sono dovuti anche al fatto che non voglio rischiare le condizioni fisiche dei giocatori. Specialmente di giocatore come Del Prete, che ha fatto una preparazione un po' così. Giocatore molto esuberante, molto generoso. Lui avrebbe giocato. Oggi sono stato io che l'ho fermato perché ha fatto 90 minuti a Milano. E quindi non era giusto. Anche perché è un giocatore che in passato ha avuto qualche piccolo problemino. Alassane ha un piccolo fastidio al ginocchio, ma si poteva stringere. Anche perché Alassane, in questi due giorni, quando noi abbiamo lavorato per preparare la partita, lui ha cominciato a fare un piccolo richiamo di preparazione. Perché lui è arrivato tardi. E si vede che proprio non ha la preparazione. Per Parigini e Belmonte dobbiamo ancora avere tanta pazienza. Pazienza, pazienza, pazienza. Perché questi ancora la palla con la squadra non hanno fatto ancora niente. Sto parlando di Parigini dopo la seconda situazione. E quindi abbiamo bisogno ancora di vederli con la squadra. Spero, spero, e l'ho visto adesso, Belmonte da lunedì di cominciargli a fare almeno il 50% con la squadra. Perché lui sta lavorando solo senza palla. Cioè, corsa, corsa, corsa. In questo momento, da lunedì, cercheremo di intensificare con la palla l'intensità, i contrasti. Perché poi nel calcio sono quelli che determinano se sei pronto o non pronto. E quindi cercheremo di fare il 50%. Parigini, finché il piede non sentirà nessun dolore nei cambi di direzione, non mi sembra giusto fargli toccare la palla. Perché poi la palla, se tocca sempre il punto che gli fa male, non lo guariamo come abbiamo fatto l'altra volta, che col Bari ha fatto 10 minuti, 15, poi è ritornato il dolore. Sarle, mister, vuole sapere come giudica la prova del centrocappo che ha un po' schierato inedito, insomma, questa sera. Spesso che ti ha messo in regia, insomma, Filippe. Avevo questi tre giocatori e quindi dovevo far giocare questi. Beh, Filippe ha sempre fatto quel ruolo lì, giocare davanti alla difesa. Quindi non mi sembra di averlo snaturato. L'Anzafame, secondo me, potrebbe fare la mezzala, potrebbe farla, l'ha fatta anche in altre partite. Anzi, secondo me l'Anzafame ha fatto un'ottima partita. Quindi, Filippe e Rodrigo hanno, secondo me, patito l'intensità che noi chiedevamo. Ecco, questo sicuramente, l'intensità. Però hanno fatto la loro partita. Però non ho snaturato caratteristiche. Forse l'unico di Rodrigo che mezzala, in questo momento, gli si chiede degli attacchi in profondità. Però pensavo di compensare con Spinazzola e lui tenerlo un po' più dentro. E anche lui, quando aveva la palla, ha fatto bene. Quando bisogna andarla a riprendere e recuperarla, non abbiamo ancora queste caratteristiche. Mister, le avevano chiesto della percentuale, diciamo. Ah, sì. E poi, se ha trovato, visto che è stata nulla, è l'amichevole con l'Arezzo, se ci sarà un'altra amichevole? Allora, della percentuale, i giocatori che hanno giocato a Milano, e quelli che hanno giocato stasera, siamo a buon punto. Perché secondo me Milano reggere il 2-0 in 10, con il Milan che voleva far gol, scordatevi che non era vero che ha rallentato, ma voleva far gol, abbiamo una buona condizione. Quelli che hanno giocato stasera, specialmente quelli che hanno fatto già molti in volte 90 minuti, hanno una buona condizione, perché secondo me Rossi, Volta, Comotto, Di Carmine, Erdemagni, lo stesso Spinazzola, hanno già una buona condizione. E quindi dobbiamo cercare di portare altri, tipo Alassan, tipo Salifu, tipo Del Prete. Lo stesso Rizzo, secondo me, ogni tanto avrebbe bisogno di aumentare i carichi di lavoro, però anche lui, oggi si è sentito male, quindi non l'ho rischiato. La seconda domanda, per sabato, non so come mai è stata annullata questa partita, mi hanno detto per ordine pubblico, se la troveremo bene, non deve essere una ricerca proprio spasmodica, perché se no andremo a giocare fra di noi, perché poi tutto sommato noi ormai di partita di buon livello le abbiamo fatte, perché anche questa stasera era una partita di buon livello, perché è una compagine di Serie B. a Milano tutto sommato abbiamo giocato contro una candidata a lottare per lo Scudetto, abbiamo retto fisicamente così, le altre due col Carpi e col Bari, quindi ne abbiamo già dentro. Se arriva, ben venga, se no non mi fascio la testa, se è una settimana non troviamo un'amichevole, se no la faremo con la primavera. Ecco. Ministra, due cose. Il Belmonte, come lo vede? Esterno o centrali di pezzio? Tanto per chiarire, perché qualcuno dice che abbiamo centrali di pezzio, o tra il loro. lo vede qui esterno, ed ha nel caso. Non so se posso strappare la compagnia. Numericamente, uno, due, tre, anche se ne aspetta. Allora, Belmonte, secondo me è un giocatore che nasce centrale, quindi l'abbiamo preso centrale. Poi, poi, lui sarebbe l'adatto alla difesa tre. Ecco, bene. Quindi perdiamo di quello. Quindi è un difensore centrale, che poi la correnza possa fare il terzino destro, e secondo me quei terzini destri lì mi piacciono anche qualche volta, o sinistro, perché molte volte si difende più quando c'è il piede buono dentro che esterno, lo possa fare. Ma noi abbiamo giocatori intercambiabili, lo stesso Rossi, lo stesso Belmonte, lo stesso, volta fatto anche il terzino, anche se non è nelle sue corde. Per il mercato ho detto che la società sa che numericamente, secondo me, in mezzo al campo siamo pochi pochi, quindi due giocatori ci vogliono. E se poi ci fosse la ciliegina che la società volesse fare altre cose, ben venga, ma io non mi offendo, io non mi offendo, ma sinceramente due giocatori in mezzo al campo proprio, perché stasera è l'emblema, nel senso che poteva essere una parte di campionato quando ti saltano tutti i reparti e devi poi giocare con giocatori anche qualche volta che non sono pronti per giocare in quel ruolo lì quello che gli chiede. Per il poggio a due mediane non avrei potuto giocare, ecco. E' chiaro, in questi amichevoli, queste più importanti ovviamente che ha fatto il Perugia, lei ha dato spazio con una certa, con un certo, ha dato spazio a molti giovani della rosa, ma questi giovani sono proponibili con lo stesso minutaggio secondo lei anche in campionato? A chi si riferisce? per fare un esempio Ce ne sono tanti per esempio che stasera vai e fai che non hai mai giocato, cioè quelli più giovani più giovani secondo me Zebri allora Zebri oggi finita la partita ho detto che da domani, cioè da domani, da lunedì si allenerà con noi perché è un giocatore che ha certe caratteristiche che noi nella rosa attualmente non abbiamo cioè un giocatore che aggredisce che va alla caccia della seconda palla quindi un giocatore che mi piace poi i giovani bisogna farli crescere bisogna farli giocare Drolè la prima volta che Drolè è venuto con noi era perché non era tesserato ma Drolè è un giocatore se non gli creiamo ho detto grandissime aspettative è un giocatore che potrebbe dare una mano che non vuol dire né giocare a titolare o vuol dire non giocare vuol dire che nel momento opportuno l'allenatore optrà per farli giocare sono giocatori che io non ho paura di far giocare i giovani io ho sempre fatto giocare dai 95, 96 anche 3 o 4 anni fa quindi ad esempio un giocatore come Mendes prima del suo arrivo crea un oggetto misterioso Mendes deve imparare che il calcio non è solo una fase ma sono due perché se lo fanno i grandissimi campioni lo dobbiamo fare anche noi che siamo all'inizio dell'apprendistato e quindi io lo adopero per quello che lui mi farà recepire durante l'allenamento oggi è entrato bene ho fatto gol poi si devono far tornare pronti io devo fare delle scelte qualche volta opto per dei giocatori qualche volta altri io farò sempre il bene del Perugia non guarderò mai l'identità o la carta d'identità del giocatore quello che recepisco durante l'allenamento spero di sbagliare il meno possibile ma sbaglierò a valangate cercherò di farlo con la buona fede sempre con la grande schiettezza di dire ho cercato di mettere la formazione migliore poi a bocce ferme tutti siamo a dire doveva giocare quello perché quello più in forma va a bocce ferme gli si dice dopo la partita io ai giovani ci credo però bisogna essere bravi tutti sapere che quando sbagliano non bisogna ammazzarli oppure quando fanno le cose bene non bisogna esaltarli io tre anni fa ho giocato con 96 titolari per 10 partite tre anni fa però poi quando sbagliava me lo ammazzavano e allora mi diceva l'allenatore non vede altri giocatori io cerco di guardare se la società mi dà a disposizione 28 giocatori devo guardare 28 giocatori nella loro globalità non mi devo fissare su 5 o 6 Perugia deve essere questo Perugia deve essere nel momento che l'allenatore chiama in causa uno che per 10 partite non ha fatto un minuto deve dare il 100% allora faremo tanta strada che cosa vorrà dire tanta strada vorrà dire fare come stasera cercare di ottenere dei risultati positivi che secondo me anche a Milano e mi hanno detto non ho letto niente mi hanno detto che sono stati un po' criticati i miei giocatori secondo me è stato un errore questo è il mio pensiero io non ho letto niente e mi hanno detto oggi qualche d'uno che qualche giocatore è stato criticato secondo me se noi non avevamo di fronte il Milan ma avevamo un'altra squadra che era di livello più basso della Serie A noi finiva 0-0 uno dei giocatori a cui sta più chiedere non è questo il segno che ci chiede è Spinazzola è un giochi questo può essere prezioso ma può essere anche un rischio che renda un po' un imbri secondo lei e cosa gli manca per fare il salto di qualità allora io proprio secondo me Spinazzola quando io ho questa attenzione su un giocatore perché credo che abita le potenzialità e quando tu vai a a cercare di mettere a punto la macchina da Formula 1 perché hai un bolider quindi io ho un bolider quindi devo cercare di metterlo a punto devo cercare di migliorare in varie situazioni lui fa 10 minuti benissimo e per 10 minuti mi si assenta io devo cercare di dargli questa continuità se riuscirà a fare questo salto diventerà un giocatore importante per il Perugia ma anche un giocatore importante per il panorama del calcio questo ha una bolider importante cioè ha delle fondamenta e io dovrò essere bravo o fortunato molte volte a riuscirgli a la mettere in careggiata e io dovrò essere bravo e io dovrò essere bravo